E' inaccettabile che ancora oggi dopo la creazione di un depuratore, dopo interventi che sono stati fatti, c'è ancora chi scarica abusivamente sull'Arzilla. Qui si crea un danno ambientale, un danno economico e chi si rende responsabile ne risponderà. Vuole scoprire la causa ai trasgressori, sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina è intervenuto sull'inquinamento del mare davanti al litorale Arzilla, che provoca anche problemi alla balneabilità. D'altra parte, Aset ha precisato che la vasca inaugurata lo scorso giugno ha funzionato a dovere e non solo, si legge in una nota, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La società di servizi ricorda che l'impianto non è stato progettato per depurare le acque del torrente, ma per raccogliere l'acqua proveniente dalla rete fognaria del quartiere Gimarra e di via del Moletto, per poi convogliarla verso il depuratore. Ricordiamo che la classe di quella area era di classe 4 e questo significa che quando si è di quella classe c'è il rischio che possono essere revocate anche le concessioni. Con l'intervento, grazie all'intervento di Pesaro, su nostra sollecitazione, si è scese a classe 2 con il nuovo depuratore. Con la vasca di prima pioggia, che in ulteriore passano in avanti, si può scendere a classe 1 e questo ci può portare a recuperare anche la bandiera blu. È chiaro che le cose non sono sufficienti, però vorrei anche dire, se non ci fosse stata la vasca dell'Arzilla nuova, l'acqua che sarebbe stata ancora di più che sarebbe aggiunta quella del flusso normale. Da dove deriva allora tutto l'inquinamento? Secondo Aset e Damonte, innanzitutto, hanno precisato, bisogna considerare l'eccezionalità delle recenti precipitazioni. I 75 mm di pioggia caduti in circa due ore certificano un'intensità fuori dalla media. Però non si può ignorare come la foce del torrente defluisca tutto ciò che l'onda di piena raccoglie lungo l'alveo del fiume e si tratta di un corso d'acqua in stato ecologico scarso e in condizioni non buone dal punto di vista chimico. Lo dimostra il report triennale di Arpam sulla base dell'analisi effettuate a Santa Maria dell'Arzilla nel comune di Pesaro. Queste ultime hanno permesso di rilevare un'alta concentrazione di eschericchi a coli. Però c'è un tema, quella situazione che si è creata con gli elementi che abbiamo visto non sono tollerabili e non vanno bene. Quindi adesso facciamo un'indagine vera per capire da dove arrivano quegli elementi, con tolleranza zero nel vero senso della parola. Faremo un'indagine, intanto ho chiesto ad Aset una relazione per capire realmente quelle che sono le cause. Poi faremo un'analisi sul nostro territorio comunale. Ovviamente non sarà sufficiente perché noi sappiamo che ci sono degli scarichi abusivi anche fuori comune. Quindi scriverò, se non domani, lunedì, entro lunedì, ai colleghi sindaci interessati di collaborare insieme a noi e di fare lo stesso delle indagini. Poi avremo tolleranza zero. Prevenire è meglio che intervenire, ha proseguito il sindaco che ha lanciato un appello alla cittadinanza. Allora, chi è consapevole e sa di avere uno scarico abusivo sia di abitazione privata o di attività, io suggerisco di intervenire prima che lo scopriamo noi. Perché se e quando avverrà questo, interveremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, citando anche per i danni che si sono creati. Non sono più tollerabili determinate situazioni, specialmente dopo investimenti fatti dalla collettività a cui ho fatto riferimento.